Cena degustazione alla Marchesella, lo storico ristorante di Giuliano in collaborazione con l'azienda Vinicola Alabastra hanno ricreato un percorso sensoriale di sapori d'eccezione. I piatti della chef Gena Iodice hanno incontrato diversi vini ed un liquore in un crescendo di sapori e colori. Abbiamo voluto fare veramente una degustazione come si fa nel mondo del vino, quindi con la presentazione dell'azienda, con i vini e in abbinamento a sei vini con sei piatti. Piatti legati al territorio, sempre la mia cucina è una cucina legata al territorio, anche con innovazione e con qualche stravaganza. Lucia Pintore, prima donna sommelier e Angelo Valentino, enologo, hanno guidato i commensali nella degustazione dei vini alabastra. La collaborazione nasce da una simpatia straordinaria che abbiamo avuto reciproca e che chiaramente valorizzava un po' sia il cibo che il vino. Eravamo sicuri che i piatti di Gena e Family potessero incontrare bene i nostri vini senza avere il timore di sfigurare e senza far sparire i nostri vini. Grazie a tutti i nostri vini